Lei crede che l'uomo si è tolto la vita a colpa della manifestazione di profughi? A me non risulta questo, a me risulta che l'uomo si è tolto la vita e che i profughi non c'entrano niente. Poi sentiremo naturalmente dell'autorità giudiziaria, però sono molto stanco di sentire queste stupidaggini, sono molto stanco del fatto di tirar fuori i profughi e di coinvolgere i profughi ogni volta che ci sia un fatto di cronaca qualunque. Questo è il commento sulla tragica fine del ristoratore di Motta di Livenza da parte del capo dell'immigrazione Mario Morcone, che avverte, attenzione, tutti i comuni sono obbligati ad ospitare i profughi. La direttiva prevede che si cercheranno i posti in quei comuni dove i sindaci non hanno fatto accoglienza. Noi abbiamo in Veneto 250 comuni che non accolgono, vuol dire che le soluzioni ai posti andranno trovate in quelle municipalità e non più in quelle che accolgono. Ma non basta, finiti i soldi per le cooperative che gestiscono l'accoglienza, prosegue. Questo è purtroppo vero ed è una cosa che mi angoscia naturalmente tutti i giorni. Dei risorse sono sicuro che il governo le darà nei prossimi giorni, se non in qualche settimana. Dobbiamo assolutamente onorare i contratti che abbiamo stipulato. Questo è assolutamente necessario, non è pensabile diversamente. Quindi la novità sull'accoglienza diffusa, cosiddetta sprarda, oggi in poi affidata non più esclusivamente alla sola prefettura. Si farà attraverso il coinvolgimento attivo dei comuni, se i comuni lo vorranno fare, perché avranno anche incentivi per farlo, oppure riguarderà un po' l'insieme dei comuni, anche quelli che non volessero aderire, attraverso la localizzazione dei bandi proprio in quei comuni in cui non ci siano soddisfatte già le condizioni di accoglienza. Quindi è un passo in avanti, in positivo perché rende protagonisti i sindaci, anche dando un aiuto concreto a fare un'accoglienza che è di numeri assolutamente sostenibili e responsabilizza anche i sindaci che non fossero in grado di fare questo, che non volessero fare questo, perché in qualche modo li mette nelle condizioni di doverlo comunque fare.